Ciao a tutti, eccomi tornato da queste tre giorni fuori sul Lago Maggiore, ci siamo un attimino aggiornati anche ieri, quando in quel piccolo video vi raccontavo insomma un po' i giri che avevo fatto e soprattutto vi aggiornavo sulla questione edicole, perché in questi ultimi giorni sto battendo molto il chiodo, ma non per una fissazione, semplicemente perché effettivamente mi rendo conto che la situazione diventa problematica. Oggi che sono tornato non avevo in programma di passare in edicola, però magari volevo prendere qualcosa in luogo dove sono stato, ma non ho trovato niente, non ho trovato nessuna edicola, ne ho vista solo una chiusa, nel senso chiusa che non avrebbe più riaperto. Oggi ho chiamato la mia edicolante per informarmi sulle uscite, perché in teoria sarebbe dovuto arrivare Martimister, ma non è successo. Lei mi ha detto che domani le consegneranno tutto quello che sarebbe dovuto arrivare in questi giorni, quindi Martimister con una settimana in ritardo, a questo punto l'albobbissi di Giulia che doveva uscire oggi. Vediamo se troverò per caso anche quella pubblicazione dedicata a Palermo, di cui parlerò comunque quando lavorò fisicamente in mano con me, se non domani, quando andrò in Sicilia, nei prossimi giorni, a me manca poco, perché è molto interessante. E chissà che cos'altro, perché sono stato un po' fuori dal mondo a livello di uscite in questi giorni, uscite editoriali intendo dire, perché giustamente ho fatto altro. Però, prendendo sempre spunto da questo aspetto, volevo fare un piccolo video che mi balenava in testa su come io abbia iniziato a leggere Dylan Dogg, perché spesso e volentieri vi ho raccontato brevemente com'è nato questo mio amore per Labbonelli, che proprio nasce, trova il suo incipit, il suo inizio, il suo principio con Dylan Dogg, ma non ho mai raccontato nello specifico se è successo. Anche in questo caso c'entrano le ericole. Allora, siamo a circa fine luglio del 96, me lo ricordo bene perché saprete che io nasco come lettore di Topolino nell'89, occasionalmente con qualche numero mi aveva regalato mio padre, mi aveva acquistati, e poi inizio in maniera, diciamo, fissa dall'estate del 90 con la macchina fotografica che erano turco, e per un paio di anni ho acquistato Topolino. Poi ho avuto, dopo il 92, due, tre anni in cui ho fatto per un periodo ancora testate Disney, Paperino Mese, però non sentivo più questa voglia di leggere Disney, perché allora pensavo che fossero pubblicazioni per bambini. Però ci siamo tornati dopo un trentennio in maniera soddisfacente, direi, e quindi questo dimostra quanto cambino le abitudini o anche le visioni del mondo delle persone. Nel 95 ho acquistato Giovanni Marmotte perché era una testata nuova, quindi che era appena uscita, poi facevo il Boy Scout, quindi insomma ho trovato qualcosa che mi interessava e che mi ha soddisfatto molto. Però nel frattempo, e quindi qui arriviamo al 96, sentivo la necessità di cominciare a leggere qualcosa, tra virgolette, più per adulti. E proprio nel numero 96, andando nella mia edicola di Fiducia, che praticamente esiste ancora e si trova nel palazzo di fronte dove abita adesso mia mamma, dove abitavo io la bambino, trovai per puro caso una copia che era rimasta un pochettino rovinata, sbeccata negli angoli, perché era l'ultima che era rimasta, di Jack lo Squartatore, che è il numero 2 di Dylan Dogg, in formato collezione book. Conoscevo Dylan Dogg di fama, ma non avevo mai letto Bonelli fino a quel momento, sì, fino al 96, ero totalmente avulso da questo mondo. Però vidi il titolo Jack lo Squartatore, lo sfogliai brevemente e dissi, questo mi sembra un fumetto per la mia età, perché avevo 13 anni e mezzo, quindi cominciavo a essere, diciamo, adolescente, quindi certe tematiche le potevo considerare valide, le potevo gestire meglio rispetto a come avrei fatto anni prima. E quindi presi questo Jack lo Squartatore, in formato collezione book, che era la terza ristampa di Dylan Dogg, che era appena uscita, il mese prima, con l'Alba dei Morti Viventi, e quindi in un periodo molto florido per la Bonelli, appunto, era arrivata addirittura la terza ristampa di Dylan Dogg e poi ne sarebbe uscita anche una quarta successivamente, la collezione, insomma, quella che contiene tre storie, non ricordo come si chiama, perché ormai non mi interessavano più. La grande ristampa, ecco. E così presi questo numero due. Storie che comunque, a posteriori, non è certamente una delle migliori dei primi cento, però è una storia insignificativa proprio perché è il secondo numero. E dall'inizio a comprare Dylan Dogg, tutti i mesi, in formato collezione book. Costava 4.000 lire, perché Dylan Dogg normale ne costava tre, e il book, questo formato cartonato da edicola, costava 4.000 lire. Quindi io che detesto i cartonati, ho iniziato con un cartonato. Era un formato molto bello da edicola. Quindi acquistai per un paio di anni quello, e poi mi venne l'idea di iniziare a acquistare anche l'inedito, perché dissi un giorno, feci, mi ricordo anche i conti, fra 12 anni, 6 mesi e 13 giorni, insomma, roba del genere. Uscirà il numero 140 della collezione book, e quindi avrò tutta la collezione completa, perché iniziai con l'inedito, col 141, nel giugno del 98, quindi circa due anni dopo appunto. L'angelo sterminatore, una bella storia, per me molto significativa, e che prima o poi vi porterò sul canale. E quindi, per un breve lasso di tempo, al 96, al 98, prima feci solo la collezione book, e poi iniziai anche l'inedito. Però poi mi dissi, ma se io devo aspettare di recuperare tutti i numeri in collezione book per arrivare al 140, ci vorranno appunto una decina d'anni. Quindi dopo qualche mese in cui ero convinto veramente di intraprendere questa strada, questo percorso, mi buttai ad acquistare in edicola anche la prima e la seconda ristampa, perché Dylan Dog aveva appunto ancora la prima e la seconda ristampa. E quindi per un tot di tempo acquistavo praticamente, acquistai 4 albi al mese di Dylan Dog. Quindi l'inedito, la collezione book, la seconda ristampa e la prima e la seconda. Cioè, la collezione book e la terza ristampa, la prima e la seconda. Però dopo un po', tutto questo in pochi mesi, mi resi conto che, ma non avevo ancora un fine collezionistico, un'idea chiara di collezionismo in testa. Però dissi, ma io li devo cambiare, mi devo prendere originali. Però non avevo ancora, come vi dicevo, questa idea di dire, devo avere Dylan Dog originale perché sono un collezionista. Semplicemente dissi, li devo sostituire. E così cominciai a sostituire gli albi. Dylan Dog era appunto intorno al numero 150-160 in quel periodo là. e così cominciai a sostituire. E mi ricordo che vendetti la mia collezione book, vendetti le mie ristampe, sicuramente ci rimisi dei soldi. Non pagai tanto, perché comunque ero un ragazzino minorenne, avevo qualche soldino quel là, ma non avevo condizioni tali da potermi permettere di spendere 30, 40, 50 mila lire per un albo. E men che meno i miei genitori mi avrebbero dato questi soldi per degli albi. Però con qualche paghetta che ricevevo, qualche soldino, nonna, zì, o qualche cosina così che facevo, qualche commissione, praticamente riuscì ad accumulare un po' di soldi. Perché il sabato, la domenica uscivo, avevo anche il motorino, però non è che facessi chissà cosa. Al massimo si prendeva una birra, si mangiava un panino fuori, o andavo a Palermo, perché io dal mio paese andavo appunto a Palermo, che dista pochi chilometri. Però non è che avessi chissà quali spese, non sono mai stato una persona particolarmente presa dalle mode, acquistare scarpe, vestiti, cose così. E quindi mi misi da parte un grussoletto. E arrivò al punto in cui individuai in un negozio il numero uno, a 100 mila lire, in ottime condizioni non perfette, ma allora non mi ponevo minimamente il problema delle condizioni perfette di un albo. Cioè non perché non me le potessi permettere, è che proprio non ci pensavo neanche. Pensavo che si potesse acquistare quello quando si trovava, andava preso, mi ricordo anche Mercatini, vicino alla stazione di Palermo. Perché allora funzionava così, avevi o il venditore di fiducia, o avevi qualche fumetteria, o avevi le bancarelle, o tutt'al più Labbonelli. Non c'era internet, non c'era ebay, non c'era assolutamente niente. Tra l'altro, prima di cominciare a sostituire tutto, io mi recuperai il numero uno in collezione book, perché non ce l'avevo, e lo ordinai alla Bonelli. Pagai 4 mila lire più le spese di spedizione, mi credo che ne pagai 6-7 mila le 6-7, e ci mise un mese ad arrivarmi. Quindi mi arrivò, per un po' feci quello, e poi, come vi dicevo, iniziai piano piano ad integrare con le ristampe e poi a sostituire. E alla fine trovai questo numero uno, però mi mancavano ancora il 2, il 3, il 4, e in una fumetteria che c'era a Palermo e che oggi non esiste più, trovai un accordo con il venditore, che aveva i primi numeri, e gli dissi mettemeli da parte che piano piano te li pago. E lui me li teneva lì, non li vendeva a nessuno, e io ogni mese, ogni due mesi, si trattava di cifre irrisorie, se uno ci pensa. Anche oggi Dylan Dogg è una cifra irrisoria, costa poco rispetto altre collezioni, a parte il numero uno che già comincia ad avere un certo valore. Allora si trattava di 20, 30 mila lire, 15 mila lire, tranne il numero 13, fantomatico, che è sempre costato un po' di più, e credo che lo pagai 25-30. Io tutti i mesi accumulavo 20, 30, 40, 50 mila lire e andavo a comprare qualcosa. Jack lo Squartotoro pagare 50 mila lire, quello me lo ricordo. Perfetto, il mio è veramente bello. Comunque, alla fine mi mancavano pochi albi, perché comunque eravamo un po' col 140, e alla fine, tra una cosa o un'altra, quando uscì il numero 161 di Dylan Dogg, Il Sorriso dell'Oscura Signora, completai la mia collezione, e riuscì ad averli tutti originali. Tutti in condizioni mediamente molto buone, perché appunto Dylan Dogg è un fumetto molto diffuso, erano comunque usciti pochi numeri, e stiamo parlando di quasi 30 anni fa ormai, almeno 25 insomma. Quindi comunque è anche passato un po' di tempo da allora. Cioè è passato più tempo da allora ad adesso che da quando uscì Dylan Dogg ad allora, che aveva circa tra i 10 e i 15 anni di vita, Dylan Dogg, quando uscì. Adesso ne ha quasi 40. E quando, in quel momento. Comprei anche i speciali, mi ricordo che presi il Club del Horror, io ero l'altroquando, il Horror Nero, che scambiai con qualche albo che avevo, con un venditore, sicuramente ci rimisi io, ma erano doppi, non mi interessavano. E quindi, dopo circa 4 anni, da quando iniziai con quel numero 2 acquistato nell'Uio al 96 in Edicola, completai Dylan Dogg col numero 161, e da lì poi iniziò piano piano il mio percorso bonelliano, con Magico Vento, Martimister, però lì iniziò davvero lo spirito collezionistico, tanto che su Martimister ne vultai subito a recuperare i vecchi albi, immediatamente. Poi vi racconterò magari in un altro video come nacque l'amore per Martimister. Tanto che poi, quando dovetti interrompere la collezione, perché io continuai ad acquistare i miei albi, che erano 3-4 serie, perché facevo Dylan Dogg, Martimister, Magico Vento, l'ex Weaver, e credo basta in quel momento, continuai fino al 2006. Poi mi trasferi a Bologna, i primi mesi continuai ad acquistarlo, mi ricordo che il trasferimento coincisse con l'uscita del ventennale Dylan Dogg, l'albo doppio, 241-242. Dopo pochi mesi mi dovetti fermare, perché non avevo spazio, vivevo in casa con altri ragazzi, non avevo soldi, avevo altri interessi, perché a Bologna ci si vuole divertire, e quindi interruppi le mie collezioni. Martimister, mi trovai con Martimister ad avere tutti i primi numeri originali, fino al 200, e mancarmi praticamente tutti gli altri, perché la mia anima collezionistica aveva iniziato a portare i suoi effetti, e quindi cominciai dal vecchio, come sto facendo con Polino adesso, comincia dai più vecchi e più difficili, e dopo tutti gli altri verranno. E quindi poi nel 2014, quando finalmente mi sono risistemato a Bologna, con la mia compagna e tutto, ho recuperato quanto mi ero perso in quegli anni, sono andato avanti con le collezioni, e ho riletto tutto in era Covid, o comunque ho letto cosa non avevo letto, non avevo mai fatto fino a quel momento. Questo, in breve sintesi, è il mio avvicinamento di Landog, che poi coincide con l'inizio del mio amore per la Bonelli. E anche lì, da dove è nato, da un'edicola in cui entrai quasi 30 anni fa, e vedi in basso quell'ultimo albo che era rimasto quasi come reso del mese prima. Ci vediamo col prossimo video!